Oltre 32 milioni di dollari, a tanto ammonta la cifra che Apple dovrà risarcire i genitori statunitensi che si sono visti addebitare i costi per aggiornamenti delle applicazioni e giochi scaricati dai loro bambini e dall'App Store, acquisti fatti all'insaputa dei genitori. Il colosso di Cupertino ha infatti firmato il patteggiamento con la Federal Trade Commission o l'antiterassa Stellestrische che l'accusava in questa situazione di una comunicazione non adeguata. Secondo l'autority, Apple ha infatti omesso di dire ai propri clienti che una volta digitata la password si sarebbe aperta automaticamente una finestra di 15 minuti, grazie alla quale i figli avrebbero potuto continuare ad effettuare spese limitate dall'App Store senza il consenso del titolare del conto, ovvero del genitore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS